Vorresti risparmiare l'infinita quantità di tempo spesa in riconciliazione, analisi dei flussi, revisione di munizie contabili e molte altre attività ripetitive? Magari gestire i tuoi clienti in remoto con maggiore produttività e professionalità e perché no dedicarsi più tempo ad attività più redditizie o semplicemente al tempo libero alla famiglia? C'è una nuova tecnologia che riduce i controlli e aumenta il tuo focus sulle dinamiche aziendali. In collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università di Torino e Utecne, il leader italiano per la formazione dei professionisti e la californiana enodemia, presentano un nuovo corso, Intelligenza artificiale per commercialisti ed aziende. Un corso che ti dà diritto a 15 crediti formativi professionali e ti fa cominciare il tuo viaggio verso una maggiore produttività. Scarica la brochure adesso al link che trovi da qualche parte su questo video. Grazie!